Come sai, io creo dei mostri, me l'ho notata, ma è molto più di quello che voi potete immaginare. Io non sono né fashion blogger né fashion influencer, io sono semplicemente a mira di Transilvania, seppolta nella sua cabina armadio. Seppolta nella sua cabina armadio. Io sono scioccato. Però adesso non pensate a una cabina armadio, non lo so, un armadio. È una cabina armadio, non due ante tre cassetti. Che grande è la mia cabina armadio, sono su 400 metri quadri. 400 metri quadri di cabina armadio. Ma quella cos'è? Una paletta per votare? No, è un ventaglio per darmi un po' di aria. Vivi con un maiale? Con un cane, con un maiale e con un pipistrello. Il maiale l'ho preso quest'anno perché era l'anno del maiale. Però Barbara, il problema è che l'anno prossimo è l'anno della scimmia e sono tutti preoccupati. Solo io potevo trovare una cosina. No. Eccolo לע нас. No 주 futuro cuoreuhan. No.